Valentino, scusate, state calmi. Guarda, sei poco serio, smettila. Io spero che viene la polizia come denuncia rispetto a quello che sta in grazia. La polizia è più scostosa, più scostosa. Begogna, 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 begogna. Ma di che, di che? Andate, rivolgetevi al sindaco al dico signor candidato, non a me, non a me, non a me. Andate di là, non da me, non da me, non da me. Andate dall'amministrazione che c'è, io non cedo nulla, ora mi candido a risolvere anche i vostri problemi, anche i vostri, stanno che non ve lo meritate. Vogliamo sapere cosa ne pensa? Non si capisce, non si capisce. Non si capisce, non si capisce. Non si capisce. Non si capisce. Tranquillo, non è che. Lui di questa situazione non potrebbe mai preoccupare. Perché lui non ha voluto parlare. Perché lui non ha voluto parlare. Perché lui non ha voluto parlare. Già si è avuto torta a parlare le vostre famiglie. Lei è la vicenda che c'era. Noi c'eravamo. Nell'incontro privato lei c'era. Noi c'eravamo. Noi ce l'ha voluta aprirsi. Non ha voluto aprirsi e questa si merita. Devo mettere una posizione, chiara, davanti alla stampa, di quello che... Se lui si deve preoccupare di noi... Ora si fa un problema che è successo e lei è messo così. Ora permanezione. Io li ho ricevuti. Mi ho detto un problema che oggi non tocca a me perché non sono in sindaco. Sto mettere in sindaco dovevi fare il problema è arrivato a che ora gli atteggiam importante. Siamo da lì. Via, via... Via, via non ha voluto esattamente a non parlo. Via, via via. Via, via 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 via. Mafioso! 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 Ragazzi, mafiosi non lo potete consentire, questo non vi denuncio, perché mafioso proprio no, mafioso proprio no, state attenti, la volta prossima suggerite, invito siccome c'è la polizia a schedarvi, mafioso proprio no, mafioso no, vi consentite il tutto, Mastella vai a casa, Mastella vai da Rione, ma Mastella mafioso non vi è consentito, per evitate la mia famiglia e non vi è consentito, siete dei disonesti, è anche lei che suggerisce là, siete persone poco serie. Per fortuna il 5 giugno a casa, a casa, il 5 giugno a casa, a casa, per fortuna a casa, a casa, a casa. Questo è quello che ci presenta, questo è quello che ci garantisce, proprio non prenduto nessuna posizione sulle nostre richieste, cosa ne vedo delle case, cosa ne vedo degli spazi sociali. Autore dei sottotitoli e delle caratteristiche di QTSS